Cari amici, buongiorno. Vabbè, è un'immagine un po' insolita, scusate, eh? Non vorrei spaventarvi. Ma insomma, per farla breve, domenica sera, che sono tornata da Roma, che ho finito il cantante mascherato, e sono caduta giù dalle scale, una caduta orribile, che un altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all'ospedale, ma io sono voluta rimanere a casa. Adesso mi hanno messo immobile a letto per 3-4 giorni, e se, insomma, ho fatto le lastre, loro, vabbè, se non c'è niente di grave, forse sospettano qualche piccola microfattura. Se posso rimanere a casa, bene, altrimenti andrò qualche giorno all'ospedale. Ve lo volevo così preannunciare, vi tengo informati per chi mi vuol bene e per, vabbè, per gli altri pazienza. Non godete, eh? Mi raccomando, eh? Perché bisogna pensare sempre in positivo, perché sono vivo, e non perdete il buon umore. Io vi voglio bene, vi do un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Baci, baci, baci. Ciao, a presto.